Come fa a muoversi con questo costume? Facilissimo, sono anni di esperienza, mi diverto, quindi ce la facciamo, ce la facciamo. Ce lo può descrivere questo costume? Questo vestito è la Basilica di San Marco, come vedete, sono due o tre, cinque cubole, ma stasera ne abbiamo tre, è tutto fatto in passavaneria, non abbiamo più contato quanti metri, forti e quattrocento, cinquecento metri di passavaneria pagliettata messa una per una, quindi è stato un lavoro fatto in un mese, fatto da una squadra interna, siamo davvero coinciditi che qua che arriva in Sister Pianco. Ma è pesante? No, rispetto agli anni scorsi, quelli che ho ingestato, questo è abbastanza comodo, non è pesante, è giusto peso, sarà 15-20 tiri, una volta in Sister Pianco. Grazie! In questo costume ci sono tante particolarità, ce lo puoi descrivere? Praticamente prima è stato fatto un dipinto della città di Burano, subito dopo sono state, solo se è stato dipinto tutto quanto, dipinto con i colori ad olio, subito dopo ho utilizzato tutte le stoffe, si chiama tecnica del patchwork, cioè applicare dei tessuti per realizzare come se fosse un equipaggio, quindi tutti i pezzi di stoffa, pietre, cannucce, la passerella è stata fatta interamente con le secche del gelato. Abbiamo riutilizzato, quindi c'è stato anche un lavoro di riutilizzo della plastica, delle cannucce, quindi il carnevale è bello anche per riutilizzare, non solo per spendere, perché è bello si spende, però riutilizzare è sempre meglio. Sì, ci sono tutte le maschere veneziane del carnevale veneziano, dalla bauta alla maschera della peste e poi tutte le altre maschere veneziane che si trovano a Venezia. Ma quanto pesa alla fine questo posto? No, questa volta è leggero. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.